Sacrificio quotidiano. Figlia mia, davanti a Gesù che si immola sulla croce, come potrà pesarti il sacrificio quotidiano? È la piccola risposta d'amore al grande dono del Signore. È la collaborazione amorosa all'opera di salvezza. Tutti desiderano star bene. Il corpo umano è portato all'inerzia più che all'attività. Il lavoro pesa sull'uomo come una condanna. La malattia ripugna alla natura umana, che al dolore tende a ribellarsi. Eppure l'uomo deve completare l'offerta di sangue del Redentore con la sua. Gesù ha riparato sovrabbondantemente i peccati di tutti gli uomini, ma per godere di questa riparazione, destinata ad aprire le porte del cielo, occorre volerla accettare e dare il proprio contributo. Ricorda la frase di Sant'Agostino. Il Signore che ha creato l'uomo senza di te, non lo può salvare senza di te. Il piccolo sacrificio quotidiano è la continuazione della messa a cui partecipi al mattino. È la messa quotidiana per tutta la giornata e per tutta la vita fino al Calvario. Non rifiutare mai al mio Gesù il contributo della tua goccia di sangue, sia nell'accettazione di quei sacrifici e di quelle piccole contrarietà che accompagnano la tua vita quotidiana, sia nella ricerca volontaria di quelle mortificazioni che ti aiutano a vincere te stessa. Sangue di Gesù, accetta l'offerta del mio dono d'amore.